Mi chiamo Ilaria Camiciottoli e sono la titolare dell'azienda agricola La Collina. Non potrei mai rinunciare al sacrificio, può sembrare un paradosso, però quando abbiamo preso l'azienda in mano io e mio marito, ringrazio mio marito per questo, abbiamo compiuto comunque un sacrificio essendo un secondo lavoro per entrambi. Però questo sacrificio ci ha unito molto come coppia, come famiglia e come azienda. Ho imparato il rispetto della natura, dei suoi tempi, la natura a volte dà tanto, a volte dà un po' meno e ho imparato ad amarla e apprezzarla ugualmente. Il vino è famiglia, famiglia perché la mia azienda è un'azienda familiare nata dalla passione di mio padre e quindi è casa. La descrizione che viene data di me e degli altri collaboratori dell'azienda è stata fatta da mio marito. Mi ha definito materna ovviamente perché sono madre di due figli, di due splendidi figli e soprattutto perché ho messo probabilmente nella vigna lo stesso amore che ho dedicato alla mia famiglia.